Oggi è una giornata particolare, è la giornata del voto tra delle vocazioni. Che cos'è la vocazioni? Che cos'è la vocazioni? Avete mai sentito la vera parola? No, glielo chiediamo ai genitori se è meglio della vocazioni. Ah? È deciso? È Dio forte. La chiamata, bravissimo. La vocazione è la chiamata. È la chiamata. La chiamata di chi? Dio, del Signore, Gesù. Dio che ci ha anche questo Gesù e anche lo Spirito Santo. Quindi, la vocazione. Ma la vocazione è anche cosa? Che cos'è la vocazione? Ci sono quelli che sono chiamati. No, no, cioè, andiamo a scendere. Il popolo dei più grigli? Tutti siamo chiamati. Tutti abbiamo una vocazione. Tutti abbiamo una vocazione. Grazie.